Ciao a tutti, oggi sono stata in un negozietto dell'usato vicino a casa mia e ho trovato questa Barbie, l'ho pagata un pound, più o meno 1,20 euro, è un po' da aggiustare, c'è i capelli sporchi, non ha un vestito, ha solo questo qui che è orrendo, va proprio aggiustato. I piedi sono in condizioni buone, non è mangiata, niente, solo un bel bagno e poi torna come nuova, una bella pettinata, poi in un altro negozio ho trovato lui e lei, lui ha i capelli un po' troppo gialli, non so, gli hanno fatto le mesh penso, col pennarello però, e poi è spogliato, ha bisogno di un vestito, però è un modino, c'è ancora il prezzo attaccato, ho pagato un pound, un pound e 75, 2 euro così, e lei è uguale, lei è molto carina, il vestito mi piace, già, si, non ha niente di rotto, il vestitino qui è un po' rotto, c'è un buco, andrà cos'è, non mi dà come è il vestito, e questo è tutto, grazie, arrivederci.